Ups a tutti, mi cari Upsini e Upsine, come state? Come, come, come state? Infatti, fatemelo sapere, dai. Oggi sono qui, solo per voi, per fare un video utilizzando il Tascam, perché sembra che in questo periodo mi sono proprio dimenticato di lui. Ho proprio rimosso di averlo, infatti ho sempre solo fatto video con il Blue Yeti, mentre trovo che anche il Tascam sia un ottimo microfono. E quindi ho voluto riutilizzarlo in questo video, dove farò principalmente un po' di mouth sounds, un po' di inaudible. E cercherò di fare il più possibile dei visual trigger qua davanti, la fotocamera appunto. Ok. Quindi iniziamo. Inizio con qualcosa di soft. Ok. 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 un po' di più come sempre devo stare attento al respiro e a controllare che non ci siano interferenze perché una cosa che ho notato è che quando utilizzo questo microfono questo qui, molte volte si sente come un piccolo suono di interferenze ogni tanto ma non capisco cos'è però non importa no 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 grigligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligligliglig fatemi sapere se voi siete fan dei mouth sounds oppure no aspetta che tipo ok il microfono non era al centro come sempre sempre storto lo metto vabbè io per esempio li adoro e li trovo super rilassanti però riconosco che ci sono tante tante persone a cui non piacciono proprio quindi è un po' un rischio fare questo video però credo che se i mouth sounds proprio 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 non ti piacciono è meglio saltare questo video e guardare quelli precedenti che ho fatto oppure aspettare il prossimo giovedì per la pubblicazione di uno nuovo appunto voglio anche come dire buttare lì il fatto che tra poco tra molto poco sarà il mio diciottesimo farò diciotto anni anche se magari molti di voi penseranno che io li avevo già fatti e che ero anche più grande perché me lo dicono tutti non li ho ancora fatti e se riuscirò vorrei provare a fare un video dove vi racconto un po' il compleanno ma ancora di più la festa che sarà qualche giorno dopo il mio compleanno che però per adesso non vi dico ancora quanto è ma continuiamo può si riuscirò così di svegliere oi 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 fare attenzione al respiro è veramente difficile aiuto vabbè oi 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 o o o o o Adesso la mia bocca è un po' stigli Lo sarebbe stato ancora di più se avessi bevuto un po' d'acqua in realtà Ma non importa, lo faccio poi dopo Ancora un pochino e poi ci salutiamo Ancora un pochino Ancora un pochino Ancora un pochino Ancora un pochino Un pochino Adesso penso sia arrivato il momento di dire Cucu Cucu Ora tocca a te Iscriviti al canale se sei nuovo o nuova Per andare a far parte di questa piccola famiglia qua su youtube Che è la OOPS community E lascia inoltre un like, un bel commento se hai un po' di tempo e ti va E il video di oggi purtroppo finisce qui Ma 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 Se tu vuoi stare ancora insieme a me io ti metterò di qua il mio ultimo video Di qua ho una mia playlist E qua il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai Va bene? Ti ricordo inoltre che io pubblico anche gli shorts qua su youtube Quindi puoi andare a vedere anche quelli Va bene? Ok Io adesso ti mando un grande grande bacio E ci vediamo la prossima settimana va bene? Buonanotte 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 Buonanotte